eccoci buongiorno ragazzi finalmente ci siamo sono da domenico gasparro sei un mito buongiorno a tutti i ragazzi anche oggi qui insieme a matteo per farvi vedere qualcosa che sicuramente vi colpirà ora analizziamo questa lavorazione che abbiamo già pre effettuato questo bellissimo cofano in alluminio leggerissimo ragazzi quando lavori con la roba racing le mani diventano d'oro questo cofano è stato di nuovo tutto spianato spianato con l'ausilio dei carte 800 anche ripassate all'acqua per levare qualche puntino che ovviamente ragazzi noi siamo super attenti ma qualche puntino in verniciatura c'è rispianato tutto bene con grande attenzione a non scoprire i bordi cioè cosa vuol dire a non avere la necessità di ridare un'altra volta il colore abbiamo opacizzato perfettamente come potete vedere il supporto il cofano e adesso entreremo in cabina e daremo altre due mani di trasparente andiamo a vedere che trasparente daremo oggi perché oggi daremo un prodotto top vero ragazzi top vero come tutte le macchine sportive molto basse molto e sono soggette a sassate piccoli lievi danni da diciamo dall'uso normale il supporto va preparato bene deve essere bello già prima che ci verniciamo se è bello così sarà bellissimo dopo se cominciamo avere il supporto che un po' è spianato un po' no non ci convince perdiamoci tempo meglio perdere un'ora adesso che rifare il lavoro domani perciò molta pazienza armatevi proprio codice boscito dei samurai dovete fare il lavoro fatto bene non c'è un'altra maniera questa è una spugnetta che aiuta a mantenere il bordo diciamo non vivo no quando due vernici sono avresti il filo così adesso noi andremo a dare la base ai parafanghi ovviamente daremo la base in maniera intelligente ovvero andremo a coprire le piccole riparazioni che sono state fatte ma non andremo a coprire completamente con la base nuova alla base vecchia andremo a fare quello che si dice una sfumatura quindi andremo a dosare il colore nuovo sul colore vecchio ora sembra in colore il supporto ma in realtà qua sotto è metallizzato c'è tutto quando andremo in trasparente riemergerà tutto il michelizzato della tinta veramente leggero forse io ho il braccio non lo so comunque è leggero siamo pronti per fare le tinte ragazzi perfetto andiamo a fare le tinte tint box attenzione rubate con gli occhi con gli occhi non con altre cose il colore del veicolo è il c9z black magic ok è un bellissimo nero intenso dentro ha dei colori michelizzati c'è reflex e altre tinte particolari ovviamente macchina top gamma colore top gamma questa base va diluita tra il 60 e l'80 per cento la diluizione varia in base anche al tipo di lavoro che dobbiamo fare se vogliamo andare un tra virgolette un po da subito in copertura tendiamo a diluirla un pochino meno e se andiamo invece a smacchiare a sfumare operazioni che dobbiamo appunto fare oggi su questa 997 andremo a diluire al punto limite circa l'ottanta per cento come diceva un grande amico mio per me la mia azienda solo il meglio cioè questa cazzo ragazzi hanno fatto veramente uno step avanti sembrava opaco poi diamo l'anti silicone ritorna colorato questo mestiere quando ha a che fare con lavori di questo tipo con macchine di questo tipo che ti consentono con quel po più di budget che ti consente di lavorare bene è un piacere ragazzi cioè io ci passo la vita grande criticità di questo parafango il tappo benzina tappo benzina se venite da qua lo puoi vedere ha una molla in ferro e una micro levetta in plastica quella va spostata verso il basso e questa molla va sganciata e tutto questo pezzo viene via conviene anziché rischiare di romperlo impegnarci un pochino di più in fase di finitura a pulire qualora servisse un pochino il bordino all'interno del tappo ci richiederà tempo e pazienza ma noi siamo qui apposta è inutile andare a riempire di vernice per questa parte proviamo a essere delicati vediamo se ci usciamo vedete come siamo delicati non andiamo a a bagnare il supporto questo per evitare una lieve differenza di colori ecco qua ora voi ovviamente in video sembrerà che si vedano guardate tra cinque minuti quando si opacizzano guardate qua ecco ora ci facciamo caso la evidenziamo ancora di più guardate quanto è ancora visibile diciamo il fondo che abbiamo dato diamo un'altra mano oggi andiamo ad operare un trasparente veramente d'alta gamma un rm un diamant top eccolo qua bello 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 questo trasparente già si vede che c'ha trasparente top gamma si vede subito si stende bene si uniforma bene vediamo dopo la seconda mano vedrete veramente qualcosa di bello tra un amore e l'altra dobbiamo 10 minuti 10 minuti per dare il tempo anche la seconda mano di caricarla di più e farla grippare di più sulla vernice che diventa già appiccicosa esattamente così e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Esatto, perché poi se sei uno che questo lavoro lo fa con passione e io lo faccio con passione, cioè mi piace svolgerlo, sono fanatico di quello che faccio, non ti accontenti mai. Io sono sempre triste quando esce la macchina al forno, capito? Sono sempre triste, eppure oh, ma andiamo a vedere che combino. Dai, dai, che è grande. Ho lasciato, ma prima devo lavarla di nuovo. Non ve lo faccio vedere in questa puntata perché sarei pazzo, visto che c'è la puntata precedente. Vi lascio una scheda qui in alto a destra di tutto il lavaggio, detailing, la cura degli interni, il lavaggio degli interni, le tappezzerie, tutto nei video che abbiamo visto settimane scorse. Ricordati che continueremo a fare dell'estrazione per vincere dei prodotti. Tu devi sempre seguire il mio profilo Instagram, officina del pilota, quello di Carcare, sempre su Instagram. E poi ti devi iscrivere al mio canale YouTube. Facciamo come abbiamo fatto l'altra volta. C'è stato un fortunatissimo vincitore che ha vinto un kit che non avete idea. Magnifico. Bene, è ora di cominciare. Domenico ho verniciato i fender e il cofano. Dopo la verniciatura sapete tutti che rimangono quei piccoli difettivi di verniciatura. Quindi lui ha già dato una bella spianata con una rotativa e poi ha passato, penso anche lui, insomma, compound e polish. Infatti la macchina ha un bellissimo gloss, è stato bravissimo e è lucida. Però io avevo passato la 3 prima di andare in carrozzeria. Per dare lo stesso gloss che mi piace molto, uso il tampone più morbido che ho, minima velocità, facciamo scaldare il tampone, distribuiamo bene la pasta nella zona che vogliamo trattare e poi aumentiamo la velocità e lucidiamo. Non vi faccio vedere la lucidatura, ripeto, perché c'è un video precedente a questo che vi spiega bene tutto. Lascio una scheda qui. Cofano fender lucidati. Adesso do una bella ravvivata a tutte le plastiche della macchina con questo prodotto. Affughiamo la nostra spugna. Affughiamo il nostro tampone nella carrema che ravviverà le nostre plastiche. Vediamo un po' che effetto ci fa. Questo è un paint sealer ed è ancora più potente. Diciamo che le plastiche, quelle molto rovinate che hanno proprio perso il colore, si sono pacezzate tanto con questo. Dovrebbero tornare buone, insomma, belle da vedere. Una bella passata ai vetri con il glass cleaner. Già spruzzato sul panno, sul supporto, devi pulire. E poi con il lato asciutto, vedi che toglie completamente l'opacità, diventa uno specchio bellissimo. Questo è un gran prodotto. Ovviamente tutti i prodotti li trovi in descrizione qui sotto. Puoi utilizzare il mio codice sconto, officina del pilota. Così risparmi un po' se li vuoi comprare. Madonna quanto è bella. Splende ragazzi, splende. È fantastica. I vetri puliti sono affigata perché valorizzano tutta la macchina. Ottimo, ultimo step. La cera e poi la macchina è pronta. Andiamo. Signori, questo è il momento più bello. Battery, wax, la cera. La cera va applicata dopo aver decontaminato, lucidato la macchina. La superficie deve essere perfetta. Non utilizzate questa cera se prima non avete lavato, decontaminato la macchina con i prodotti, con la clay bar e poi l'avete lucidata. Non ha senso metterla se la macchina non è già di seta. Quindi questo diciamo che è la ciliegina sulla torta, il tocco finale ed è quello che mi piace di più, giustamente. Cerchiamo di essere omogenei su tutta la superficie. Applichiamo un velo sottile. Attendiamo qualche minuto che si asciuga. Se la zona nella quale applicate il prodotto è umida, aspettate un minuto, due minuti in più e poi rimuovete il tutto con un panno di microfibra nuovo, pulito, pulito. Che piacere fare questa cosa. Che godulia. Quindi ragazzi, lo stesso procedimento su tutta la macchina. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Dovete sapere che teoricamente oggi Avevamo preventivato di uscire con la macchina E farvela vedere sotto al sole Brillante Piove Grazie per la visione! Grazie a tutti! Va bene ragazzi Io sto sempre più felice di stare qui Dai, dai Vi vogliamo bene E grazie per l'ascolto Alla prossima! Ciao ragazzi!